Mister, è una bella vittoria che ci riporta nella nostra dimensione, quindi ricominciamo a vincere. Sicuramente la dimensione non lo so quale sia, giocare non è mai facile, però quello che mettono sul campo i ragazzi è davvero importante. Anche oggi hanno fatto una grande prestazione, come l'Ugera Stata e l'ho detto a fine partita anche a Carpi. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, purtroppo non abbiamo raccolto a Carpi, però l'atteggiamento è stato quello giusto e purtroppo non siamo stati premiati nel risultato, ma era una sconfitta che non ha fatto male, ma ci ha fatto crescere. E oggi è uguale, si è rivisto il solito atteggiamento che si vede un po' sempre di questa Gianna, con grandi cattivi ragionisti, con grande qualità, con grande voglia di provare a fare la partita e secondo me abbiamo fatto bene. Il primo tempo buono, poi abbiamo preso quel gol un po' strano, forse sembrava anche un tocco di mano da parte del giocatore dell'Alcione, però il secondo tempo direi alla grande, è cambiato anche il ritmo. Sì, 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 assolutamente. Penso che nell'arco dei 90 minuti abbiamo concesso qualcosa i primi 5-10 minuti e abbiamo concesso qualcosa, abitare il secondo tempo, però nell'arco della gara abbiamo sempre un po' tenuto il pallino del gioco e penso che abbiamo fatto davvero una buona gara. Come hai detto tu, ci sono stati degli episodi, il gol del pari e diciamo la mancata concretizzazione di alcune situazioni da gol e quindi ti dico, riconduco un po' il tutto alla cattiviera nell'edurale, secondo me bisogna essere un pochettino più cattivi se vogliamo trovare un difetto a questa partita, quindi concedere sempre meno la nostra area e ottimizzare un po' di più quella che è stata un po' la molla di gioco e le situazioni da gol che abbiamo creato. Quattro ragazzi titolari della primavera, una grande soddisfazione per lei? Ma guarda, questo è sempre un po', lo dico da inizio anno, abbiamo creduto in questi ragazzi qua e ci crediamo fortemente, quindi siamo consapevoli che vanno fatti crescere, bisogna aspettarli, però le risposte sono quotidianamente importanti, fanno vedere sul campo, vengono apprezzati dal pubblico, vengono apprezzati da noi, dalle loro prestazioni e quindi meritano lo spazio che stanno trovando. Due parole giusto per un singolo, Caferri, che è entrato nel secondo tempo e è sembrato devastante sulla fascia. Sì, ma Caferri come anche altri giocatori stanno facendo una stagione davvero straordinaria, un ragazzo che ha delle doti davvero sensazionali per la categoria e quindi siamo contenti, che è un ragazzo che si applica bene, come ho detto un paio di settimane fa, ma mi ha fatto la medesima domanda su un singolo, sul fall, posso dire la stessa cosa su Caferri, no? Reincarna veramente questo spirito di gruppo di questa squadra, c'è tanta applicazione, tanto sacrificio anche per il compagno e lui è sicuramente un giocatore che lo dimostra allenamento, dopo allenamento e partita dopo partita. Va bene, grazie mille. Posto. Posto.